stavamo esplorando la zona centrale del veneto quindi a nord troviamo vicenza nella parte più a sud troviamo appunto padova se ci spostiamo a sud di padova incontriamo i cosiddetti colli euganei che sono una formazione particolarissima già quando ci passiamo vicino andiamo a visitarli proprio vediamo che dalla pianura padana all'improvviso si innalzano questi colli queste colline che sono di formazione vulcanica palesata anche proprio dal colore questa terra scura tendente al nero che ricorda proprio le origini stesse di questi di questi colli sono delle vere e proprie cupole che si ergono proprio dalla pianura quindi la loro particolarità è quella di avere anche la possibilità di raggiungere delle quote interessanti addirittura dal monte gemola nelle giornate più limpide si riesce a vedere venezia e siamo comunque a una distanza di circa 60 chilometri quindi siamo decisamente lontani però nelle giornate terze limpide siamo addirittura al di sopra di quelle che sono le nebbie quindi abbiamo il fenomeno dell'inversione termica un luogo particolarissimo con due esposizioni ovviamente differenti che danno vita anche a mondi completamente opposti perché da un lato un suolo così generoso composto da roccia vulcanica con un'esposizione a sud permette addirittura di avere delle piante che proprio sono più tipiche della macchia mediterranea dall'altro lato invece nella zona nord abbiamo della una flora ma anche una fauna quasi quasi unica nel nel suo genere ecco in questo territorio però è estremamente particolare perché si specchia alla perfezione con il territorio del vicentino qua troviamo quelli che sono alcuni vitigni proprio autoctoni del del luogo tipo il serprino che da vita a un uno spumante in metodo charmant non chiamatelo prosecco anche se effettivamente questo vitigno è imparentato in modo molto stretto perché è un biotipo del glera quindi abbiamo un rapporto molto molto vicino ma il territorio vuole sicuramente andare a rivendicare quella che la sua unicità poi abbiamo come casa perché erano stati portati già in antichità come seconda casa alcuni vitigni internazionali come il carmener il merlot che qui trova veramente la sua collocazione perfetta per quanto riguarda il mondo veneto e poi abbiamo anche il cabernet sauvignon ma anche il cabernet franc il difficilissimo cabernet franc si fa addomesticare e si fa controllare da quello che è la generosità del suolo e delle temperature appunto che andiamo a trovare sui colli euganei la particolarità però è rappresentata dalla presenza di un moscato giallo unico è un biotipo di moscato giallo che tende ad avere questi profumi che ricordano tantissimo la zagara quindi il fiore degli agrumi tanta tanto da meritarsi appunto la denominazione del colli euganei fiordarancio quindi è un vino dolce però anche spumantizzato che proprio ricorda al sentore al profumo il lagrume quindi questo questo fiore è un qualcosa di estremamente tida tipico ma stranissimo perché ha proprio un richiamo agrumato con questa bella freschezza ma anche questa bella dolcezza e spumantizzato ovviamente da queste note molto più vivaci divertenti dinamiche è una è un vino da provare assolutamente sono vari interpreti ovviamente sul sul territorio quota 101 un'azienda che a me piace particolarmente come espressione classica tipica dei colli euganei per esempio ma ad ogni modo cercando di capire effettivamente l'eccellenza che può essere rappresentata se andiamo al qua petrarca che è una zona abbastanza limitata nel sul territorio troviamo vignalta vignalta è una delle aziende che dai anni 80 ha proprio portato i colli euganei in giro per il mondo facendo riconoscere a tutti ed ha raggiunto dei livelli qualitativi con tre suoi vini in particolare che in pochi altri sono riusciti proprio a raggiungere tre amici appunto che negli anni ottanta danno vita alla cantina con l'idea di valorizzare intanto il moscato giallo e quindi il fior d'arancio che deve essere almeno 95 per cento appunto di moscato giallo il vino che ha raggiunto nel pochi anni fa il premio come miglior vino passito al mondo da decanter quindi agli oscar del vino voluti dal magazine inglese sono riusciti ad affermarsi proprio per questa netta qualità perché effettivamente questo vino riesce a dare anche questa freschezza e non soltanto l'aspetto della dolcezza e loro hanno lavorato alla perfezione ma quello che secondo me è molto interessante del modo di lavorare di vignalta è rappresentato soprattutto dai due tagli bordolesi proprio a testimoniare che la zona del veneto quella centrale può lavorare tranquillamente sui vitigni internazionali rispetto al vicentino siamo agli opposti quindi non partiamo da una base di cabernet sauvignon in questo caso vignalta parte per il suo vino cult che è gemola ma l'altro è comunque con uvaggio analogo si chiama arqua ecco parte da una base di merlot che sfiora il 70 per cento l'altro 30 per cento non è cabernet sauvignon ma stiamo parlando di cabernet franc quindi un vitigno estremamente difficile da lavorare che qui trova però la perfetta espressione circa 36 mesi di botte di rovere francese da 500 litri quindi non stiamo parlando di barrique ma stiamo parlando di una botte un po più ampia per un vino che poi risulta elegantissimo pluripremiato proprio perché ha queste caratteristiche che lo portano al di fuori di quello che può essere il classico clima veneto i colli oganei hanno questa caratteristica di poter insieme raccogliere quella che è la generosità di un clima molto molto caldo di un suolo vulcanico ma anche la freschezza della quota quindi di nuovo forse la parola chiave quando parliamo di veneto in generale potrebbe essere equilibrio perché i vini tendono sempre a trovare in qualche modo il loro equilibrio spesso attraverso il blend perché chiaramente il cabernet franc porta delle note un po più dure porta delle note leggermente più erbacee mentre il merlot tende ovviamente a portare questa grandissima sua densa un trama di tannino molto fitta però anche molto morbida il merlot poi tende a portare anche dei profumi di frutta molto più matura che vira verso la confettura quindi questo gioco tra questi due vitigni con un affinamento che non è una barrique ma a botte un po' più grande dà la possibilità di portare sulla tavola e all'interno del calice dei vini che sono equilibrati che sono di sostanza di materia che sono proprio succosi e mai banali che non stuccano e che hanno sempre questo sorso che è estremamente persistente Grazie Grazie